E' vero, abbiamo una partita dove dobbiamo giocare concentrati, loro sono una squadra che alterna grandi prestazioni e prestazioni meno buone, dobbiamo fare in modo che sia questa loro buona prestazione per merito nostro, quindi di grande pressing, attenzione, concentrazione, preparando questa partita in questo modo. Grazie, grazie. E' chiaro che hanno buoni giocatori, qualità importanti, però è chiaro che questa evidenza è anche qualche calo di concentrazione. Qualità di高i選zioni è molto molto, ma se il giocatore è un giocatore, il giocatore è un giocatore, ma è un giocatore, ma è un giocatore, ma è un giocatore. Qualità di qualità di più dico nell'attacco, qualità di piccolo, ma è un giocatore importanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.